Le Marche sono una delle regioni più longeve d'Italia. Gli ultracentenari, secondo una recente indagine demoscopica dell'Istat, sono ben 554, di cui 147 solo nella provincia di Pesero Urbino, seconda ad Ancona. Il dato fa sicuramente riflettere sulle ragioni di questa longevità, aria salubre anche nelle città, alimentazione bilanciata, qualità della vita superiore e alla media. Ma queste favorevoli condizioni di vita non sottraggono però i nonni più anziani d'Italia dagli inevitabili convenienti dell'età avanzata. Uno di questi è sicuramente legato alla mobilità. Per agevolare le persone anziane e quindi in questa necessità, ultimamente sono giunte in loro soccorso le tecnologie legate alla cosiddetta mobilità assistita, come appunto i Mobility. Il Mobility ridà la libertà a chi non ha la forza e la resistenza per camminare, per muoversi. Quindi è un oggetto che ridà la libertà e l'indipendenza anche dai figli. Non c'è più bisogno di chiedere ai figli di farsi portare dal campo di bocce alla messa della domenica e quindi ridà la libertà. Tant'è vero che quando c'è qualche guasto ci tempestano di telefonate ora per ora per rieverlo subito perché in realtà è un sostitutivo delle gambe e quindi per l'anziano diventa qualcosa di indispensabile. Ci sono patenti particolari o quali sono gli aspetti burocratici? Qui non ci sono aspetti burocratici perché questo mezzo viene visto come ausilio al camminare. È praticamente l'evoluzione del bastone. Quando uno cammina bene ha due gambe, quando cammina meno bene ha il bastone, quando non gli basta più il bastone può avere questo. Quindi non c'è niente di più. Tant'è vero che sono omologati o perlomeno utilizzati senza problematiche anche nei supermercati, cioè ci si può girare anche negli ambienti chiusi perché non è un mezzo a motore a scoppio, quindi un motore elettrico, silenziosissimo peraltro, e quindi è un ausilio delle gambe, quindi non ha nessuna necessità particolare se non quella di rispettare le esigenze di rimanere pedone. Quindi usare i marciapiedi, usare le strisci pedonali, non andare sulle strade dove i pedoni non possono andare, tipo la Montella Battese, per intenderci. Quindi questo è un po' o la superstrada di Fano. Un consiglio da dare a chi è indeciso? Beh, intanto noi abbiamo qui degli spazi intorno al negozio dove si può provare e quindi provare, abbiamo una gamma enorme sia come modelli che come prezzi perché abbiamo anche molti usati. Il problema più grosso è quello di vincere la resistenza che spesso hanno i figli. Quindi sapersi, diciamo, dosare nel volere un mezzo come questo e non aver paura di provarlo. Provarlo insieme ai figli, provarlo insieme ai nipoti perché appunto è un mezzo che ridà la libertà ma soprattutto l'autonomia di non dipendere dai figli per tutto. Per chi non ha la sintonia automatica...